Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Clash Royale e devo smettere di parlare così veloce perché non capirete nulla Comunque, ho un baule omaggio, cosa ci sarà dentro? Vediamo, oro ovviamente, goblin che non me ne frega nulla e capanna dei barbari che ormai ho finito anche di guardarla Comunque, ricordatevi che abbiamo anche il gruppo di... Sì, sì, il gruppo e clan di un po' di tutto e c'è già... e credo che uno se ne sia già accorto l'ho chiamato anche Sense Undertale Comunque, ci sarò solo io perché Mr. L è un pirla e ha perso l'account e non si gioca più Comunque, vediamo un po'... Voglio fare il baule della corona per... tanto che mi portate fortuna voglio che mi portate ancora più fortuna e, come avrete ovviamente visto, siamo nell'arena 5 Ebbene sì, ho giocato abbastanza anche perché... Uh, che è previsto... guarda, prevedibile Prevedibile come il meteo Cavolo, era a mezzo... era a mezzo centimetro dalla torre Cioè, avete visto bene Vabbè, un draghetto non è un problema No, quello che cavalca al porco Cosa faccio con questo? Guarda, non è neanche complicatissimo Se guardiamo Valkyrie contro Valkyrie A chi vince? Ah, la sua al quattro Quindi mi sa che vince Non lo so... no, vince la mia, vince la mia, ok Ora mettiamo i Goblin E... e gli Sgarri Che sono efficacissimi contro i Barbari Però se continuiamo così non vince nessuno Dobbiamo... dobbiamo stare... e vabbè ma... Lo so... devo trovare più tattiche anti... anti strega Che... che... che mi dà molti problemi la strega Un secondo... un secondo... fatto Però sto qua mi fotte con... con... con il Cavaliere No, col Principe, ho sbagliato, scusate E confondo sempre Principe con Cavaliere Ma è quello che cavalca al porco, ovviamente Perché non mancherà mai Allora dico, vabbè, la torre la lascio lì Comunque Io farei Valkyrie a Moschettiere Moschettiere se si chiama così, eh Poi non lo confermo Vabbè, una torre l'abbiamo persa Ma... vabbè, si sapeva anche già Penso... oh, mi sa che non l'abbiamo persa Sì, l'abbiamo persa, l'abbiamo persa L'abbiamo persa Ah no, non l'abbiamo persa Che culo... sì, vabbè, però anch'io E io e le mie tattiche Guarda Ma è immortale il Pecchino Il Pecchino, mi raccoma Cambiate, cambiate Clash Royale Il Pecchino Che schifo Ok Beh dai, non è... Ma non è messa benissimo come pensiamo che la sua torre Allora lui ha perso la torre e l'ho persa anch'io Giusto? Previsto Anche... ah, quello che gavacca il porco è andato anche... È andato anche avanti E però devo farmi un anti... Come dire... un anti... Anti-orda Perché se no... perché qua... Non si va molto lontano Se no... Tipo un antistrega, per esempio Sì, ho la palla di fuoco ma... Non è che fa i miracoli Anzi... Talvolta... talvolta mi butta via il digerio e basta Dove puntare tutto su quella... E adesso si sta cagando addosso, si sta cagando addosso Ditemi, ditemi se non siamo dei geni Anche se sta qua l'ho vinta parecchio tirata Non... Non ci ho messo proprio il mio impegno Comunque due corone mi fanno più che comodo Ma me ne servono altre sei Quindi se vinco altre due volte... Però devo vincere due volte... Però con tutte e tre le corone Oppure... Oppure tre volte con due corone Però verrebbe fuori un episodio di tre ore e mezza Oppure se siamo... Oppure... Dato che portate molta fortuna a me Come avrete già visto nell'ultimo episodio Odio... Odio... Odio perché odio quando mi mettono i mini pecca E... Ah, è già andata giù È già andata giù la loro torre Che cavolo Sono piuttosto forti le mie truppe Devo depotenziarle se no... Ai 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 Esatto No, devo tenerlo a bada Sì, l'arciere Perché ho messo l'arciere Anche il gelo sto qua Tutti hanno il gelo No Moschettiere torna indietro Bene, bravo moschettiere Correggetemi se ho detto... Non scorreggetemi qua Correggetemi se ho detto male Moschettiere Anche se non penso che si dica esattamente così Ok, il gelo Il gelo Il gelo Il gelo Il gelo Mi ha fatto male Io direi di puntare alla torre La torre della cor... La torre principale Comunque l'antiprincipe L'ho brevettato Ma non è... Come dire È due orte di goblin Differenti Non è... No cavolo Mi pecca Ah, però se mi ha tolto vita, eh No, 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 no Avete visto con quanto ci ho rimasto? Però cazzo 450 in un colpo Cioè ditemi voi se non è tanto Volevi... Eh, no, mi ha fottuto Mi ha fottuto Cavolo Vabbè, almeno ho rimediato una corona Ma non è che Ci posso Non è che posso vantarmi di tutto questo Proviamo A distruggergli Però un po' avventato Vabbè Ah sì, moschettiere si dice Pensavo di aver detto una Cazzatissima Ma per fortuna non è così La Valkyrie è piuttosto lenta Quindi ho fatto davvero male A metterla Davvero male Ho bisogno di una troppa D'assalto Vabbè confermata D'assalto Non proprio mezza D'assalto Tipo la Valkyrie No Proprio d'assalto Deve essere Quella Da Oh cavolo Allora Complimenti Perché come te la sei giocata Davvero Questo Vabbè È andata È andata È andata Croce Via Ah però Ci va per i Goblin Per quanto possono essere tanti Non faranno molto Moschettiere Sì Ma Sì Bravo Hai messo la strega nel posto migliore Là in centro Dove è stata bersagliata Di Di cannonate Ma però Un'antiorda Di scheletri Sono anche gli sgherri Che nel loro piccolo Fanno qualcosa Cioè Impediscono Perché li ho messi là io? Non li ho messi lì O almeno Magari ho spostato un attimo il dito Ed è andato tutto All'altra parte No 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 Gli arcieri Arcieri Sì Ci sono riusciti a contenerlo Però Non con Non con conseguenze Vabbè dai 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 Abbiamo subito più danni Di quanto mi aspettassi Dal Uh Sei in difficoltà Quanto vedo È parecchio in difficoltà Dai ce la faccia Ascoltatemi Quando parlo Questo è uno dei motivi principali Comunque Io avrei intenzione Di cambiare deck Per un po' Tipo questo Guardate Sgherri Ho avuto anche lo stregone A livello 3 Guardatelo bene E ora combattiamo Voglio riprovarlo Perché Ho brevettato Una tattica Ma voglio metterla in pratica Qua pro davanti A voi Vediamo Questo qua Lo metto qua Per distrazione Poi metterò Questo E gli sgherri Ovviamente Lui è tutto concentrato Di qua E L'antiorda Sarebbe lo stregone Però Ci vuole troppo No Perfetto Perfetto Palla di fuoco Va promessa lì Messa lì Perfetta Oh cavolo Ok Siete liberi Di dirmi Perda Perché stavolta Anzi no E lui che Ma cavolo Ma quanto di cuo Ha un deck Che gli costa un miliardo A lui Va bene Va bene Lui attacca Lui attacca di là Io attacco di qua Sempre sei quello Che cavalca Il porco Ci arriva Eh Lui ha capito Come si fa Io no Forse Forse era meglio Usare un altro deck Forse era tanto Meglio usare Un altro deck Rispetto a questo qui Questo qui È un mezzo disastro Mezzo Guardate la vita Guardate la vita Della sua Seconda Della torre Sinistra 1666 Confirmed Mago Mago e cavaliere Così il mago Distrugge le orde Che vabbè Ma sei un figlio Di Dai Non è che ha fatto Così schifo Il mago è anti-orda Cioè anti-scheletrini Di schifo Bravo Se l'è cavata Molto bene Molto 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 bene E vabbè Ma allora Mi vuoi male Avanti Sì Cerchiamo di distrarlo Un attimo Vabbè Ma sei un Bastardissimo Vai stregone Però lo stregone Ci accompagnerei Un cavaliere Andiamo col cavaliere E anche Sì Ma dai Ok Il cavaliere Fa dal cavallo Di troia Che addirà tutto E O almeno Doveva farlo E ma Questa Strega maledetta Che Non crepa Manco Manco pagarla Vai Quello che cavalca Quello che cavalca Il porco Non ha un nome O almeno Non per me Ok Si è giocato bene Le carte E io Le ho giocate male O almeno Ho sbagliato Deck Per questo scontro Qui Per esempio Il cavaliere E straupi Dobbina fare Un'altra O forse Altre due Se ci va peggio Oltre tre Vabbè Li lascio La torre Tanto Non la prende Lo stesso Non gli ho lasciato La seconda torre Quindi ha vinto Ha vinto Per 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 culo Comunque Questo qua Costa troppo Questo non è male Con la Si si dai Riprovo Anche questo Deck qua Che almeno Ha un'orda Di sgherri Bella Consistente Ma sto qua È irlandese Allora Prima buttiamo I goblin Dopo dire Di buttare L'anti-orda E di qua Ha avuto Il domatore Non se l'aspettava Se l'aspettava Sono io Che faccio Il male Alle metattiche Ah È vero Non ho la palla Di fuoco Eh Si Ho perso Ho perso Tecnicamente Ho perso Una torre Si l'ho persa Complimenti a me Che faccio Queste tattiche Da schifo Cavolo Se togli La mongolfiera Io Con la uso mai Perché Non sono Un tipo Da Ok Bene o male E se È potente Si provo Con la furia Così almeno C'è Provo a contenere Ma devo Trovare Una tattica Migliore Di questa qui Perché stiamo Straperdendo Mh Ora Di sgherri Che toglie Cavolo Cavolo Se toglie Questa Questa E poi Via con il motore Così il motore Si fa Da Trupa D'assalto E anche Da Assorbi Vabbè Ma sei un figlio Di Lasciami Lasciami almeno Un'ottore Dai Fammi farla La figura Davanti ai Mei iscritti Moschettiere Moschettiere Dai che c'hai la furia Dai che c'hai la furia Eh non è funzionato Non è funzionato No Non ha Non ha funzionato No No Vabbè Vabbè No dai fammi Fammi fare Fammi fare una dora Almeno Una Una Un motore Di cendiali Fai qualcosa Sì sì Dai che va Dai che va Dai che va Mi accontento Mi accontento Eh Furia Cos'è che Anzi è servita la furia Io me l'ero detto Non togliere le frecce Le ho tolte Vabbè Quindi il deck Più utile di tutti Si è rivelato Quello Iniziale E voglio confermare La teoria Quindi lasciate sempre Lo stesso deck Non cambiatelo Mai O prendete Poi dipendere Dalle vostre tattiche Magari siete più Strategici di me Che io Già di strategia Mi butterebbero fuori Al primo giorno di guerra Qua E lì avrei dovuto Usare gli sgherri Ma uso le frecce Per bellezza Una capanna Dei goblin Bravo Però io uso la vachiria E te lo spingo In compenso Ci aggiungerei anche Un'orda Ma lui è un'orda Ancora più grande Che me lo piazza lui Invece Arcieri Per dare Supporto Morale Che non Non fanno nulla Gli arcieri Ah Palla di fuoco Palla di fuoco Si lo so La torre l'ho persa La torre l'ho persa O no Si Si L'ho persa La torre reale Come caso si chiama Ma Però Se gli sto giocando bene Le sue carte Per quanto poche Possono essere Però E' troppo E' troppo Il principe Ce l'avevo anch'io Se vi ricordate bene Però Non l'ho usato Per 5 degli sire E' anche un po' Troppo Per me Allora Orda Poi dico Mettiamo anche una seconda No Moschettiere Si Orda Orda E' un parolone Sono due Due sgherri Buttati lì Palla di fuoco Per contrastare un po' E frecce Per togliere Lì Di sgherri Molto irritanti Anche se avrei dovuto Metterla qua E vabbè 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 Gli sgherri Non servono più Dai Valkyria Che l'ho sottovalutata Allora Valkyria Supporta bene I danni Del Del principe Però dobbiamo Prendere quella Quella 1 1 E spero Che vada Ma non andrà mai La mia tattica Mai Perché E' un E' un principio Della fisica Le mie tattiche Devono fare schifo Devo Fare schifo Concentriamo Dico Non concentriamo tutto Su qua Sì ok Vai moschettiere Fa qualcosa Cerca di Tenere viva La mia speranza Per Ce la faccio Ce la faccio Ce la faccio Dai che prendo Dai che la prendo Dai che la Ora posso Posso perdere Posso perdere Ah giusto E' vero Perché siamo In pari La vera Poi l'ho persa L'ho persa Quelle 140 Dera di vita La mia E pensare Cioè Faccio cagare Solo Quando devo registrare Di solito Sono Sono meglio Vi giuro che sono meglio In questo gioco Me li becco Tutti i guai Però Quando gioco io Non aspetto in arena 5 me li trovo Tutti però E sono in arena 5 E poi Mi hanno anche retrocesso Quella Una volta C'è Oggi Poi son tornato E ora sto per retrocedere Di nuovo Mi sembra Perché Faccio Veramente Schifo Che finisca In pareggio Dai lasciami un pareggio Fai un favore A un fratello Fai un favore A un fratello Oppure perdi Così mi fai Un altro favore No 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 E' decisa E' pareggio Pareggio Però quello che mi interessava A me era la corona Cos'è almeno Abbiamo fatto il baule Della corona E spero di trovarmi Una leggendaria Leggendaria Probabilmente Vediamo Caricamento veloce Apri Baule Della corona Il dito magico Sarà il pollice Questa volta Cosa troverò Vabbè Ora lo sapevano tutti Gemme Gemme Ho trovato anche le gemme Spiriti del fuoco Sbloccato Bene Carta comune 20 della scarica Tesla Non la uso molto E razzo Beh dai Sinceramente E' stato un po' deludente E' stato un po' deludente Questa volta Peccato Davvero un peccato Cos'è che ho sbloccato E' vero Gli spiriti del fuoco Quindi gli spiriti Mi sono i kamikaze Ok Ok Ah bersagliaria e terra Non sono male Quanti sono Ah Tre Solo tre Beh dai Non sono male Possono sostituire i goblin Ma lo proverò Prima di fare Una recensione Una recensione Su questo Su questi spiriti del fuoco Come Come la torre Dov'è Dov'è quella là Che ho trovato Eccola qua La torre infernale Dicevo che era bella Ma alla fine Io non la so usare O fa cagare O non la so usare Comunque Ci vediamo al prossimo episodio Di Clash Royale Oppure altri episodi Qualsiasi cosa Mi capiti sotto mano E ciao a tutti